Un software semplice e intuitivo per il pagamento della tassa di soggiorno. È ciò che il comune di Capaccio Pestum consegnerà gratuitamente a tutte le strutture ricettive per la gestione dell'imposta di soggiorno, introdotta nel 2018 dall'amministrazione. Il nuovo software, realizzato dalla società Maggioli S.P.A., sarà presentato agli operatori del comparto ricettivo lunedì 23 luglio alle ore 10.30 presso la sala Erika Capaccio Scalo. A partecipare il CDA della Poseidonia, istituzione comunale che si occuperà del comparto turistico ed il consigliere comunale con delega al turismo Giovanni Cirone. Il software, nello specifico, consentirà alle strutture ricettive di incassare in modo più semplice e veloce la tassa di soggiorno, per poi versarla nelle casse dell'ente, che investirà tali entrate per il miglioramento dei servizi turistici sul territorio.